Buona giornata e ben ritrovati in diretta con l'informazione di Udinese TV. In apertura c'è la cronaca con un gravissimo incidente stradale che si è verificato poco fa lungo l'autostrada A4, la Venezia Trieste con l'arteria che attualmente è chiusa per lo scontro un tamponamento tra due mezzi pesanti verificatosi lungo il tratto a tre corsie poco dopo il ponte sul fiume Tagliamento. Al momento dello scontro erano stati segnati rallentamenti sui pannelli a messaggio variabile a causa dell'afflusso di auto articolati come spesso accade nelle giornate di martedì e mercoledì. Sul posto sono presenti il personale di Autovie Venete, la Polizia Stradale, Vigili del Fuoco, il 118 e l'Eli Soccorso. È stata istituita, come dicevamo, l'uscita obbligatoria a Latisana per chi proviene da Trieste ed è stato chiuso lo stesso svincolo in ingresso in direzione Venezia. Per quanto riguarda le condizioni degli autotrasportatori coinvolti si parla di un ferito in maniera molto grave il conducente di uno dei tir coinvolti sul posto le ambulanze del 118, il personale dei Vigili del Fuoco e il personale della Polstrada che sta intervenendo per risolvere il gravissimo incidente. Il bilancio appunto è di un autista che è stato trasportato in ospedale in condizioni gravissime. Ci sono 7 chilometri di code sulla carreggiata Ovest come hanno confermato anche i pompieri. Vedete la segnalazione sul sito di Info Viaggiando con l'intervento che prosegue e naturalmente vi terremo aggiornati solo la scorsa settimana. Ricordiamo a San Donati Piave in uno scontro tra un furgoncino e un camion erano morte due persone residenti a Talmassons nell'Udinese. Ora continuiamo con il nostro notiziario in attesa di collegarci con Nadia Fileccia che ci racconterà di una storia incredibile che la sta venendo protagonista assieme al figlio vittima proprio di un incidente stradale. era stato travolto il 21 marzo scorso mentre era a bordo di uno scooter Vivo per Miracolo la storia di Nadia è apparsa con una post su Facebook chiedendo il supporto di tutti per cercare di dare le migliori cure al proprio figlio. e noi allora siamo pronti proprio a collegarci con la signora Nadia che ci racconta che cosa è accaduto. Buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Niente, il 21 marzo è stato vittima di questo incidente e da lì è iniziata la trafila, ha rotto il bacino, l'acetabolo che è un punto delicatissimo, per 90 giorni non può mettere il piede per terra e adesso ieri mi hanno chiamato dall'ortopedia dicendomi appunto che mio figlio o andava a casa, lui non si può muovere, è assolutamente allettato con grossissimi problemi anche di riabilitazione oppure andavo in un RSA, un posto dove vanno gli anziani dove hanno questa fisioterapia insomma che secondo me non è adeguata. noi puntavamo al Gervasutta e io in quel momento lì da madre ho scritto il post e da lì sono partiti tantissimi spunti, mi hanno chiamato tantissime persone, anche assessori si stanno interessando del caso. So che è anche arrivato in regione questo mio messaggio ma che questo mio messaggio sia non solo per mio figlio che ha 26 anni e ha tutta la vita davanti per svolgere sport, per correre, per viaggiare, ma per tutti quanti non esiste solo il Covid. Io non posso essere annientata perché in ospedale ricevono solo ed esclusivamente malati Covid. Cioè non è possibile, il diritto alla salute è inalienabile e per mio figlio ma per tutti quanti. Cioè non poteva essere gestito a casa, è impossibile gestirlo a casa. Lui ha bisogno di una fisioterapia intensiva, massiva e non certo una fisioterapia domiciliare con i tempi del Covid, con i tempi tecnici e con quant'altro. E lì in un momento di disperazione assoluta ehm ho fatto questo post su su Facebook perché non sapevo assolutamente alla prima volta che mi succedeva non sapevo assolutamente cosa fare. Eh vi ringrazio per questo spazio che mi state dando ma non solo per me, per tutti, per tutti i malati perché non ci sono malati A di serie A e malati di serie B. La malattia è unica, il malato è uno e l'assistenza sanitaria è una, non c'è una divisione, non può esserci una divisione. Grazie, grazie a lei per questo messaggio, per questa eh testimonianza, per un problema che avevamo già affrontato tra l'altro anche nelle scorse settimane, proprio la necessità di garantire accanto alle cure per i pazienti Covid anche l'attività ordinaria. Sappiamo che per le carenze di personale sono state ridotte tutte le attività extra Covid ma storie come quelle eh che la riguardano, riguardano suo figlio, ci fanno capire l'importanza di mantenere anche una parte di eh questa attività chirurgica e anche di fisioterapia proprio per evitare che succedano episodi di questo tipo. Eh ci raccontava Nadia che ha ricevuto naturalmente l'abbiamo visto dalle condivisioni del suo post tantissimi messaggi di supporto da parte della struttura la quale vi eravate rivolti dal Gervasuta arrivata qualche risposta? Allora dalla struttura no assolutamente non mi è arrivata alcuna comunicazione. Ehm sono stata contattata dall'assessore alla sanità eh che ha ricevuto il post perché io ringrazio tutti coloro che hanno condiviso non non avrei mai immaginato che scoperchiavo un vaso di Pandora ma lo è è un vestaglio. Comunque sono stata contattata dalla eh dall'assessore alla sanità. Abbiamo qualche problema con l'audio. Vediamo se riusci riusciamo a ripristinare. Eccomi. Eccoci. No mi scusi mi scusi mi era entrata una telefonata e si era disattivato. Mi ha detto che mi ha detto che il problema covid è un problema grosso che sta impegnando la sanità però io ripeto ehm la sanità è un diritto cioè io non mi devo occupare da madre di tutto questo cioè io non è che eh devo fare un post alzare la voce puntare i piedi per avere un diritto assoluto per avere un diritto assoluto non devo farlo. L'assessore mi ha eh contattato eh mi ha detto che eh farà un passaggio in RSA e forse al Gervasita eh non lo so io finché non vedo con i miei occhi non mollo non mollo assolutamente perché mia questa è proprio una denuncia nei confronti di chi non comprende che non esiste solo ed esclusivamente il malato covid esistono i malati tutti i malati anche quelli che non hanno voce quelli che dicono di sì perché portare un ragazzo di ventisei anni a casa con quei con i problemi anche di ma non non lui non riesce muoversi non può stare seduto non può fare nulla è follia è veramente follia non so se lei mi trova d'accordo con con questo mio pensiero. Capisco sì sì vedremo dunque se riusciremo a smuovere le acque con collaborazione naturalmente con la necessità di dare risposte al suo caso ma a tanti altri casi e continueremo a seguirli perché come eh ci raccontava lei eh il la sua è una battaglia non solo eh per suo figlio ma per tutti quelli che si trovano in questa situazione in questo periodo è davvero difficile noi rimaniamo a vostra disposizione e aggiornateci fateci sapere se ci saranno nel corso della giornata altri sviluppi intanto grazie signora Nadia grazie grazie mille a voi per la voce che mi è dato grazie a tutti quanti grazie 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 grazie. Grazie dunque la signora Nadia a Fileccia continueremo come detto ad aggiornarvi nel corso eh della giornata ora continuiamo con il nostro notiziario e a proposito eh di eh gestione della pandemia sono arrivati in mattinata le bozze eh sul monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità per quanto riguarda la nostra regione nella settimana compresa tra il 31 marzo e il 4 aprile l'incidenza dei contagi è scesa a 219 su 100.000 abitanti la settimana precedente era 274 quindi sotto la soglia da zona rossa dei 250. Scende ancora l'indice R con T a 0,79 con l'intervallo compreso tra 0,76 e 0,82 e ricordiamo che lo scorso monitoraggio era 0,98. C'è fiducia quindi per il ritorno in zona arancio dalla prossima settimana dal 13 o dal 14 in base alla decisione che adotterà domani il Ministero della Salute. Il numero dei contagi come già anticipato è sceso del 23 per cento rimangono invece ancora alti i numeri delle terapie intensive al 46 per cento di occupazione sul totale. Quelle in area medica scendono invece dal 53 al 47. Entrambi i valori comunque sono sopra le soglie di allerta. E poi c'è il tema che da ieri continua a condizionare il dibattito sulle vaccinazioni ovvero l'utilizzo e per quali fasce d'età del vaccino AstraZeneca. Stamattina l'assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi è ancora in attesa della circolare del Ministero che disponga appunto le nuove regole di utilizzo del vaccino anti-covid. Ieri Riccardi ha partecipato assieme ai colleghi delle altre regioni al confronto con il Governo, col Ministro degli Affari Regionali Gelmini e il Ministro della Salute Speranza i quali hanno fatto il punto sulle decisioni. L'Italia lo ricordiamo raccomanda l'uso di AstraZeneca solo per chi ha più di 60 anni sebbene non ci siano elementi per scoraggiare la somministrazione della seconda dose per quanti avessero già ricevuto la prima. Ad annunciarlo proprio il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli pur riconoscendo i casi eccezionali di trombosi come effetti indesiderati molto rari dell'immunizzazione anglo-svedese, l'EMA non aveva infatti ritenuto di sconsigliare la somministrazione per genere o fasce d'età. Il provvedimento e le direttive del Ministero della Salute attese in mattinata conterranno una raccomandazione appunto per somministrare AstraZeneca sopra i 60 anni in linea con quanto deciso da altri Paesi dell'Unione. Andiamo a capire anche il perché di questa presa di posizione dalle parole del Dottor Rezza del Ministero della Salute. Questo di AstraZeneca non lo dimentichiamo è un buon vaccino. I dati inglesi che ricordava prima Nicola Magrini ce lo confermano anche con una sola dose. Gli inglesi hanno ottenuto un effetto di popolazione veramente formidabile. Hanno abbattuto la morbidità e la mortalità in maniera eccezionale. Contano purtroppo ancora, ma poche decine di morti. Noi oggi abbiamo avuto oltre 600 decessi nel Paese riportati, che è una cifra enorme. Quindi quando parliamo di alcuni eventi avversi potenzialmente legati al vaccino rari, sappiamo che questi costituiscono dei drammi individuali naturalmente molto importanti, drammatici, ma allo stesso tempo però dobbiamo ricordare che grazie a questo vaccino in Inghilterra sostanzialmente la mortalità è stata fortemente abbattuta, mentre noi abbiamo ancora una situazione che certamente ci deve far riflettere. Dobbiamo aumentare quindi la nostra capacità vaccinale, assolutamente. A AstraZeneca si è dimostrato, come dicevano prima i colleghi e amici, un vaccino che quando sono arrivati i dati sulla popolazione anziana, perché all'inizio c'era una limitatezza di dati relativi alla popolazione anziana, ha dimostrato un'efficacia quasi del, compresa tra l'80 e il 100% nel prevenire sia l'ospedalizzazione che la morte. Quindi un vaccino di efficacia sicuramente molto elevata nei confronti delle forme gravi di malattia, anche nella popolazione più anziana e naturalmente questo fa sì che a fronte proprio di una mancanza di eventi fino ad ora registrati in questa popolazione ci sia da parte nostra un'indicazione ad un uso preferenziale in questa popolazione. Lo annuncio quindi fra stasera e domattina uscirà una circolare del Ministero della Salute che riprenderà chiaramente il parere di AIFA, naturalmente, sentito anche il Consiglio Superiore Sanitario della Persona del Professor Locatelli e che quindi darà le indicazioni precise alle regioni su cosa fare, sulle modalità di uso del vaccino. Naturalmente adesso è un vaccino che può, come dire, chiunque, può essere somministrato a chiunque dai 18 anni in su, su questo non c'è dubbio, se una persona di 40 anni volesse vaccinarsi oggi con AstraZeneca potrebbe farlo. Quello che noi diciamo, però diamo un'indicazione per un uso preferenziale. Allora avete ascoltato la spiegazione del dottor Rezza, anche su questo fronte continueremo a tenervi aggiornati. Ora cambiamo argomento e andiamo ad occuparci di un'altra delle categorie che sta soffrendo parecchio le chiusure. Il mondo dei teatri e dei cinema, il capitolo che interessa al mondo della cultura, chiusa da tantissimi mesi e tra queste attività c'è anche quella del Palio Studentesco, che a Udine è una presenza storica. Monica Nardini ci aggiorna su come intendono proseguire anche nei prossimi mesi l'attività. Buona giornata, te la linea. Sì, buongiorno. Alle nostre spalle il Teatro Palamostre, simbolicamente ovviamente chiuso, ma per tante edizioni ho aspettato il Palio Teatrale Studentesco promosso da Teatro Club Udine. Sono in compagnia proprio della Presidente Alessandra Pergolese. Buongiorno Presidente. Pandemia non pandemia, il Palio Studentesco non ha intenzione di fermarsi. Siamo quest'anno alla cinquantesima edizione e desiderate proporla, se possibile, all'aperto, a giugno. Sì, realizzarla qui al chiuso, al Palamostre, sarebbe stato veramente un azzardo. Quindi abbiamo pensato a una soluzione alternativa, ma riteniamo comunque felice di farlo all'aperto, ai giardini Loris Fortuna, uno dei più bei parchi udinesi e abbiamo avuto anche già l'approvazione della giunta comunale. Ci manca un ultimo passaggio che è il parere della sovrintendenza, ma siamo fiduciosi. Le date sono previste per i primi quindici giorni di giugno, insomma, se tutto va bene? Sì, la prima quindicina di giugno, già forse da fine maggio, sì, certo. Approfittiamo della bella stagione che dicono che consenta le attività, insomma. C'è tanto desiderio di ripartenza ovviamente nel settore, c'è tanto desiderio di ripartenza tra gli stessi ragazzi delle superiori che stanno affrontando ancora qui in Friuli Venezia Giulia la didattica a distanza e che anche per il Palio si trovano a doversi preparare, organizzare online, a distanza tra loro. Esattamente, non possono fare le prove in presenza, le devono fare appunto online, è veramente tutto molto complicato, ma come dicevamo il Palio non si arrende, dobbiamo dare un messaggio di speranza e andiamo avanti con equilibrismi veramente inimmaginabili, ma andiamo avanti. Quanti ragazzi si stima saranno coinvolti quest'anno? Ma diciamo che adesso dobbiamo fare una stima precisa, ma saranno più di una ventina, naturalmente gruppi più esigui, più piccoli, una ventina di gruppi, ciascuno composto da 10-15 ragazzi, non di più purtroppo, anche se noi eravamo abituati a numeri ben più alti, gruppi da 50 ragazzi, perché naturalmente le misure di distanziamento non consentono la presenza sul palco di più persone, ci sarà un numero esiguo sul palco, certo, si alterneranno. L'anno scorso avete proposto una edizione completamente virtuale, quest'anno la cinquantesima edizione dunque volete proporla dal vivo e anche il Teatro Club Udine intende al più presto proporre altre iniziative di cultura, di spettacolo, di teatro, anche coinvolgendo il Teatro Palamostra alle nostre spalle, vero? Perché? Sì, perché alcuni gruppi hanno espresso il desiderio di registrare i loro spettacoli e quindi abbiamo prenotato tre giornate al Palamostra per realizzare questo loro desiderio di anche lasciare una testimonianza di quest'anno così insolito, no? Quanta voglia c'è di ripartire anche il Presidente? Tanta, tanta, anche se i ragazzi veramente stanno vivendo un momento molto difficile e quindi a maggior ragione Teatro Club Udine che organizza il Palio appunto da 50 anni ha sempre messo al centro della propria attività il mondo giovanile ma quest'anno ancora di più perché è fondamentale aiutarli insomma. Lei conferma il disagio che c'è tra i giovani insomma delle emozioni non poco da sfogare ancora più quest'anno. Esattamente, il Palio consente loro la possibilità di esprimersi, di esprimere il loro mondo emotivo e adesso segregati nelle loro abitazioni con la DAD sono veramente in difficoltà insomma la socialità per i ragazzi di quell'età è fondamentale. Bene, allora ci riaggiorneremo sugli spettacoli insomma non vediamo anche noi l'ora di vedere i ragazzi sul palco. David da qui è tutto, a voi la linea. Grazie, grazie a Monica Nardini. Noi riprendiamo il notiziario con alcune altre notizie di cronaca con un tentato colpo al distributore della Kuwait di Viale Palmanova Udine nella notte. Attorno alle 22.30 è arrivata la richiesta di intervento alla centrale operativa del Corpo Vigili Notturni che ha ricevuto la segnalazione di un furto presso la stazione di servizio. Qualche minuto dopo al suo arrivo la guardia ha riscontrato lo sportello della colonina self service aperto e vistosamente manomesso all'interno. Sono state informate le forze dell'ordine che sul posto hanno inviato delle volanti della questura. Il gestore del distributore è arrivato poi poco dopo, poco prima di mezzanotte dalla verifica eseguita congiuntamente alla polizia si è riscontrato che l'ignoto autore del gesto aveva manomesso lo sportello usando un cacciavite ma molto probabilmente disturbato dall'attivazione del dispositivo antifurto si è dato alla fuga senza asportare alcunché. Diversi gli interventi dei Vigili del Fuoco nella notte a Grado attorno alle 22.30 in via Aquilei a prendere fuoco la parte di un tetto di un'abitazione a due piani sul posto i pompieri del comando di Gorizia e del distaccamento di Monfalcone. All'origine probabilmente il surrescaldamento della canna fumaria e le persone che erano all'interno della dimora non sono state fatte uscire, non sono rimaste ferite e lo stabile è stato dichiarato comunque agibile. Principio di incendio, un'ora prima anche a rivolta di Rive d'Arcano, si tratta di un rogo probabilmente doloso appiccato all'interno di una vecchia abitazione abbandonata, di intervenire per primo un residente di una casa tigua con secchi d'acqua e un estintore. Successivamente i pompieri di Udine hanno bonificato l'area. Ed ora in attesa di collegarci con la Dacia Arena per aprire la nostra pagina sportiva un flash dedicato al Teatro Verdi di Porrenone che ha sottoscritto un accordo importante per quanto riguarda la formazione dei giovani a teatro. Vediamo. Accordo importantissimo oggi con la Fondazione Friuli perché puntiamo insieme ad una valorizzazione dell'immagine di Porrenone come città della cultura, un centro in piena effervescenza culturale dove il teatro intende svolgere un ruolo importante unitamente anche all'Università di Udine. Ma oggi si suggella un rapporto importantissimo e storico con il Teatro Verdi di Porrenone che ha avuto sempre come obiettivi la valorizzazione dei giovani ma fa leva anche sulla grande capacità che il teatro in questi anni ha dimostrato di essere un importantissimo volano culturale ed economico sia per la città che per tutto il territorio. Per quanto riguarda invece l'economia, dopo le dimissioni a fine marzo dell'amministratore delegato di Eurotec Roberto Siagri, il CDA nominato per cooptazione, Paolo Ciaula, nuovo amministratore delegato, il presidente dell'azienda Di Amaro, quotata a Piazza Affari, attiva nelle nanotecnologie e nell'edge computer. Patrizio Mappelli ha detto che siamo lieti di aver trovato un manager con comprovate esperienze internazionali, un solido track record nella gestione del business e nello sviluppo di strategie globali in grado di condurre la società in un rinnovato percorso di successo. Sono entusiasta di rientrare in Italia dopo parecchi anni passati all'estero e contribuire con la mia esperienza internazionale alla crescita globale di questa bella realtà tecnologica made in Italy. Ha dichiarato Ciaula, nato a Londra dopo la laurea in ingegneria nucleare al Politecnico di Torino, il nuovo amministratore ha intrapreso una carriera di 27 anni nel settore della componentistica per l'industria automobilistica e dell'elettronica avanzata, ricoprendo posizioni di leadership in diversi paesi. Dal 2014 era in Sensata Technology società leader nella produzione di sensoristica. vediamo se siamo pronti ad andare alla Dacia Arena, non ancora allora anticipiamo la pagina dedicata alla nostra programmazione oggi come ogni giovedì ritorna all'agenda di Alberto Terasso che si occuperà di far ridere del tema, del far ridere in questi tempi difficili e la satira in Friuli tra polemiche e volti nuovi. Dovremmo avere anche un'anticipazione per quanto riguarda appunto la puntata di stasera a partire dalle ore 21. Ve la proporremo in caso successivamente perché siamo pronti ora ad andare proprio alla Dacia Arena con Lorenzo Pausa che ci racconta le ultimissime in casa bianconera. Eccoci Davide, una buona giornata a te e a tutti i nostri telespettatori. Due giorni alla sfida dei bianconeri contro il Torino, sfida che si giocherà alle 20.45 sabato alla Dacia Arena. Udinese che sta preparando questa partita con l'intento di archiviare le due battute d'arresto con Lazio e Atalanta con l'intento soprattutto di mettere in campo una prestazione, una prova di squadra propositiva sin dal primo minuto cercando quindi di contenere innanzitutto le folate degli avversari ma anche l'intento di non dover poi trovarsi a rincorrere nella seconda metà di gioco. Focus dunque tecnico-tattico tanto nella seduta di oggi che si svolgerà in tarda mattinata quanto nella rifinitura di domani. Intanto però dalla giornata di ieri non sono arrivate buone notizie sul fronte difensivo perché Bram Noiting ha accusato un risentimento muscolare che molto probabilmente lo terrà lontano dai giochi nella sfida contro i Granata. È chiaro allora che l'eventuale assenza dell'olandese andrebbe a creare un po' una falla dal momento che il classe 90 ha sempre dato maggiore spessore con la sua presenza alla retroguardia bianconera quando è stato chiamato in causa. Anche vero invece che verranno a meno alcuni dubbi che potevano ancora insinuarsi nella mente di Mr. Gotti dal momento che invece è rientrato Samir. A questo punto con il brasiliano praticamente certo di rientrare dal primo minuto restano tre giocatori che sono Becao, Bonifazi e De Maio a giocarsi gli altri due posti quello al centro e quello sul centro-destra. Per quanto riguarda invece il centrocampo c'è un balottaggio a tre in particolare sulla fascia sinistra dove sgomitano Struger, Larsen, Ziegler e Oweian e ci sono dubbi anche là davanti perché staremo a vedere se la prima punta sarà come prima punta sarà riconfermato Stefano Cacca o se tornerà dall'inizio Fernando Gliorente. Per quanto riguarda invece l'altro ruolo di attaccante anche in questo caso abbiamo tre nomi che si giocano il posto che sono Nestorowski, che sono Forestieri e che sono Jaden Braff che sicuramente torneremo a vederlo da qui in avanti nonostante le difficoltà legate al proprio esordio contro l'Atalanta. Udinese che si allenerà quindi a partire dalle undici e mezza noi come sempre saremo live dal centro sportivo Bruseschi per mostrarvi le prime immagini dell'allenamento. A te David. Grazie, grazie Lorenzo, ci ritroveremo anche nella prossima edizione dunque. Prima di salutarci torniamo sulla notizia con la quale abbiamo aperto il nostro notiziario ovvero il gravissimo incidente stradale che si è verificato stamattina lungo l'autostrada A4 nel tratto compreso tra la Tisana e Porto Gruaro in direzione Venezia perché purtroppo è arrivata la notizia del decesso di uno dei camionisti coinvolti nell'incidente, era ferito in maniera gravissima a soccorso dal personale sanitario, purtroppo non ce l'ha fatta. L'incidente si è verificato dopo le ore 9, come dicevamo nel tratto tra la Tisana e Porto Gruaro in direzione Venezia, un tamponamento tra due mezzi pesanti poco prima del ponte sul fiume Tagliamento. Al momento dello scontro erano stati segnalati dei rallentamenti sui pannelli a messaggio variabile a causa dell'afflusso molto elevato di auto articolati come spesso accade nelle giornate di martedì e mercoledì. Sul posto presenti il personale di Autovie Venete, la stradale, Vigi del Fuoco, il 118 e l'elissoccorso. Attualmente è ancora chiuso il tratto autostradale con uscita obbligatoria alla Tisana per chi proviene da Trieste ed è stato chiuso lo stesso svincolo in ingresso in direzione Venezia. Ulteriori novità nella prossima edizione del nostro Tg alla quale vi rimandiamo alle ore 12. Ora spazio alle previsioni del tempo. Buona giornata. Amici di Udinese TV, bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo per la giornata di giovedì che come vedete sarà splendida in fruire Venezia Giulia così come in gran parte dell'Italia. Sole protagonista per tutto il giorno, l'unica cosa temperature che sì di giorno risultano tutto sommato piacevoli. Arriviamo a sferare 15 gradi ma di notte a primo mattino farà davvero freddino. Andiamo a vedere, cominciamo da Udine e Pordenone. Temperature minime all'alba di poco sopra lo zero. Ma in aperta campagna o addirittura in montagna si andrà anche sotto zero. Quindi c'è ancora bisogno di coprirsi bene in inizio giornata. Poi ripeto col passare delle ore staremo benino. Anche su Gorizia e Trieste valori davvero al di sotto delle medie del periodo con le minime di poco sopra lo zero e anche qua massime difficilmente oltre i 13-15 gradi. Però è anche vero che in qualche modo sarà forse la giornata un po' più freddina. Da lì in poi temperature in aumento. Per sapere nel dettaglio cosa capiterà da voi, attenzione nel weekend attorno anche la pioggia. Scaricate l'app di Trebi Meteo. Scaricate l'app di Trebi Meteo.